O Dio, nostro Padre, che in Cristo tua parola vivente ci hai dato il modello dell'uomo nuovo, fa che lo Spirito Santo ci renda non solo uditori ma realizzatori del Vangelo, perché tutto il mondo ti conosca e glorifichi il tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Grazie a tutti.